È fondamentale dare ai nostri ragazzi la sicurezza, i giovani saranno esclusi dalla campagna di vaccinazione, fino a 16 anni non saranno vaccinati e quelli più grandi verranno vaccinati giustamente alla fine perché adesso si stanno vaccinando i più anziani, poi saranno i disabili, coloro che hanno patologie, quindi i ragazzi più giovani o non verranno vaccinati o verranno vaccinati quando la scuola sarà finita e la stagione sportiva sarà finita. Quindi questo contributo di 2.500 tamponi che diamo gratuitamente alle società sportive è un aiuto a svolgere la loro attività nella massima sicurezza, a coloro che possono ancora svolgere attività in questi giorni, a coloro invece che la potranno svolgere dopo Pasqua quando speriamo seremo usciti dalla zona rossa e sono tamponi che potranno usare appunto per la ripartenza. Quindi ci crediamo molto a questo screening continuo, uno dei pochi modi che abbiamo per contrastare la pandemia, ovviamente il vaccino è la risoluzione finale per sconfiggere il virus, ma nel frattempo uno screening periodico nei luoghi, nelle comunità, quindi le scuole e lo sport sono per noi essenziali, quindi credo che siamo uno dei pochi comuni che mette risorse proprie per aiutare in questo caso il mondo dello sport. Qualche settimana fa il mondo della scuola per aiutarli appunto ad avere scuole e sport sicuro. Abbiamo il mondo sportivo che è stato fortemente colpito, il mio primo pensiero va alle palestre, alle scuole di danza, ai centri personal trainer, che questi nel 2020 sono stati quasi sempre chiusi. Quindi oltre diciamo alla gente che fa attività sportiva sia a livello agonistico che dilettantistico ci sono dei professionisti, dei lavoratori, quindi c'è un indotto economico importante, ci sono famiglie veramente in difficoltà. Questo è sicuramente quello dello screening, è quello che abbiamo fatto già e abbiamo dimostrato con le scuole. È un'operazione che ti può permettere di avere una fotografia istantanea, ma se viene fatto costantemente ritengo che sia un metodo veloce, efficace per poter contenere il contagio. Quindi oggi siamo qua, facciamo una consegna simbolica a tre realtà sportive, ma ce ne sono tante altre che hanno fatto richiesta, oltre 30 società sportive. E quindi consegneremo quasi tutto i 3.000 tamponi che abbiamo previsto.